Benvenuti a Energia in Gioco! A noi basta un click, ma chissà da dove deriva l'energia che consumiamo? Io lo so, viene dal sole, grazie a speciali pannelli che trasformano la luce in elettricità. Si, ma anche dal vento. È l'energia eolica e viene prodotta da macchine eoliche. E poi l'energia si può produrre con la forza dell'acqua. È l'energia idroelettrica. Ma c'è anche quella geotermica, prodotta dal vapore contenuto nella Terra. Ma queste energie sono sempre presenti in natura? Cioè, il vento non finirà mai, giusto? Sono fonti rinnovabili, non inquinano, ma non significa che le possiamo sprecare. No, assolutamente! La maggior parte dell'energia la ricaviamo da combustibili fossili, come il petrolio e il gas, che ad un certo punto finiranno. Beh, allora dobbiamo risparmiare energia. Dipende anche da noi. Energia in Gioco. Gioca sul sito di Cartoon Network con Energia in Gioco. E se vuoi saperne di più vai sul sito di Energia in Gioco.